Sistema commercio e impresa, una nuova realtà associativa che raccoglie diverse aziende, diversi imprenditori ma anche diversi professionisti. È stata presentata nella città di Canosa e comprenderà due province, la provincia di Foggia e quella della BAT. Vediamo di cosa si tratta. Una nuova realtà così come già ne esistono, però noi cerchiamo di aggregare, anzi stiamo aggregando imprenditori e professionisti, quindi non soltanto una branca specifica del nostro mercato, ma questa volta creare delle sinergie proprio fra imprenditori e professionisti per fare in modo che il nostro territorio possa avere una forza maggiore, una forza propositiva nei confronti di chi deve ascoltarci, le istituzioni, immaginiamo le camere di commercio, immaginiamo la possibilità comunque di creare una forza propulsiva che riguardi formazione e informazione di tutte quelle persone, dalle maestranze e anche dalle stesse imprese, perché molti imprenditori hanno necessità di essere guidati, hanno necessità di avere dei punti di riferimento e chi meglio di un'associazione come Sistema commercio e impresa può dare, ma insieme anche ad altre confederazioni, comunque autonome, la nostra è riconosciuta a livello nazionale, così come tante altre, può dare questa forza in un territorio ampio, in un territorio importante, quello della BAT e quello di Foggia, quindi un territorio dove effettivamente c'è tanto da poter fare e tanto faremo. Ecco, due effettivamente province dove naturalmente c'è veramente tanto da realizzare in questo senso. Il bello della nostra regione, della Puglia, è proprio perché è una regione ricca di opportunità, queste opportunità vanno raccolte, non possiamo aspettare che queste opportunità come un ottimo frutto cada dall'albero, ma noi dobbiamo andarlo a raccogliere e noi siamo qui proprio per creare questo, grazie anche ai professionisti, grazie anche a Giovanni Assi come professionisti, a tanti altri che hanno collaborato alla realizzazione di questa aggregazione comunque di imprenditori, che si amplierà adesso nel futuro, imprenditori e professionisti darà la possibilità di andare a raccogliere questi frutti che tra l'altro ci appartengono perché sono del nostro territorio. Abbiamo un territorio molto vasto e questo territorio sono convinto che inizierà, grazie anche al sistema commercio impresa, ad avere un tassello in più affinché ci sia un futuro migliore per chi lavora e per chi cerca lavoro. Ecco, diversi naturalmente anche i servizi che saranno erogati dall'associazione. Certo, la parola d'ordine, come diceva Luciano, è sicuramente sistema. Il nostro obiettivo è quello proprio di mettere a sistema, quindi in rete, una serie di servizi che sono di vitale importanza per le nostre aziende, sono nella loro quotidianità. Penso alla difficoltà di accesso al credito, piuttosto che alla formazione per i nostri dipendenti, piuttosto che alla finanza agevolata, tutto ciò che effettivamente ci scontriamo giornalmente. Da Canosa per Viva Sveva24, Stefano Massaro.